Ben trovati, oggi abbiamo con noi Roberta Gilardi di G2 Startup. Intanto Stefano ti ringrazio e saluto anche io tutte e tutti. Grazie a te. Il tema di innovazione sicuramente è una tematica oggi di rilievo, ma secondo me per un motivo anche molto ben preciso. Io credo che oggi, proprio anche per le situazioni socio-economiche, di economia che stiamo vivendo, anche in questa situazione non piacevole della pandemia, però l'innovazione è una forte leva, veramente è un forte driver per riuscire anche a sviluppare nuovo lavoro, nuovo business, quindi per riportare e sviluppare un'economia reale che deve tornare a diventare protagonista. Puoi farci qualche esempio? Nel 2018 abbiamo fatto una call insieme a Philip Kotler e a Martin Lindstrom, due mostri sacri del marketing e della comunicazione a FICO, non a caso. Abbiamo premiato una serie di start-up che avevano ben lavorato, per esempio, su tutte quelle tecnologie che aiutano l'agricoltura e che quindi migliorano la performance dell'agricoltore con costi più sostenibili e in una direzione anche di sostenibilità ambientale. Abbiamo una start-up che si chiama 21, che è guidata da una ragazza molto in gamba, siciliana, quindi che ha una grande tradizione non gastronomica alle spalle. Sta proponendo delle esperienze non gastronomiche in una forma di una box, quindi di una scatola, con dei prodotti. Si stanno utilizzando delle tecnologie di tipo virtualizzazione e di realtà virtuale, proprio per consentire un'esperienza più ampia. Volevo chiederti un'ultima cosa. Il mondo della tecnologia, della tecnologia digitale o comunque dell'innovazione, quanto può essere un mondo al femminile in termini di innovazione? Come possiamo spingere ragazze che magari sono incuriosite da questo mondo a superare questo stereotipo e pensare invece di poter dare un apporto decisivo a questo ambito? C'è molta imprenditoria femminile che però forse deve fare anche un po' un salto, ovvero anche le donne devono avere maggiore fiducia in se stesse. Io dico però ragazze, industriatevi e lavorate per creare anche impresa. Pensiamo un po' in grande, nel senso che poi certo c'è un percorso, non è facile niente, però bisogna partire un po' anche a stimolare dei modelli di business e delle iniziative che abbiano un'ambizione di scalare sul mercato. Non accontentiamoci. Quindi ragazze, fatevi avanti, non siate intimorite perché comunque sono professionalità, specializzazioni che sono secondo me molto adeguate a una partecipazione al femminile anche perché si parla di contaminazione, di tenere insieme cose diverse, cose cui è risaputo noi maschi non siamo capaci. Noi ci focalizziamo su una roba e quella magari sappiamo anche farla molto bene, ma quando c'è da tenere insieme più cose, voi donne siete molto più brave e il mondo sta andando in quella direzione. Credere in se stesse e studiare, andare avanti, credere nei propri progetti e non demordere. Bene, bene. Roberta ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato e ti auguro buona continuazione con tutte le tue attività e a risentirci presto. Ciao a tutti e a tutti.